Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fragheto 8, Fano. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Running Center, scarpe e abbigliamento per la corsa e le camminate. Via Flaminia 69, Lucrezia di Cartoceto. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, bell'occhi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo. Puntata numero 26 del settimanale di Fano TV, anche l'ottava di questa seconda stagione. Tonfo, casalingo per l'Alma. In casa con il Tivoli domenica scorsa, un 3-0 del tutto inatteso. La squadra laziale veniva da 5 sconfitte consecutive. Presentava la difesa più bucata del girone. Aveva segnato anche pochissimo, tre gol soltanto nella partita inaugurale con il Riccione. E aveva vissuto anche una serie di avvicinamenti in panchina. Eppure Almancini è riuscita a guadagnarsi il vantaggio nel corso di un primo tempo tutto sommato equilibrato. Di fronte ad un Fano già piuttosto impacciato. Poi nella ripresa il tracollo della formazione Granata, che come vedremo ha letteralmente regalato un paio di gol. Alma che è riuscita a costruire soltanto un'occasione vera da rete, che peraltro ha sprecato dell'Alma, ma anche di tutto l'emisfero calcistico locale. E non solo, parleremo con Giovanni Mei, nostro ospite questa sera. Buonasera e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Giovanni Mei, giocatore dell'Alma un po' di tempo fa, poi anche allenatore dell'Alma e anche presente in tante altre piazze nelle diverse dimensioni. Dicevamo di quest'Alma, costruita quest'anno con l'obiettivo di guadagnare una salvezza tranquilla, una squadra che inizialmente è stata impostata per non prendere gol, in maniera dichiarata, e quindi alla fine una squadra da 0 a 0, che se per caso capitava di segnarlo il gol, poi la partita la portava a casa. Se la disarmatura voleva che lo subisse, poi alla fine la partita la perdeva. Qualche passo comunque consistente in classifica è stato fatto, poi nelle ultime settimane è complice anche un calendario impegnativo, le cose stanno un po' precipitando. Cosa hai visto in questa squadra, quali sono secondo te le considerazioni da fare? Il campionato del Fano, perlomeno per quello che si è sempre letto e che si è sempre detto, è un campionato per salvarsi e tutto sommato aggiungendo alla classifica i tre punti di Fossombrone è ancora in linea con il proprio campionato. Il problema non penso che sia nella squadra, nei giocatori, ma penso che sia stato ed è a tutt'oggi quello delle persone, cioè che in pratica non ci sono dei punti di riferimento ben precisi per nessuno. Per cui è una cosa a cui i tifosi tengono molto, che però è completamente isolata da tutti e si tende sempre più a cercare di isolarla questa squadra e secondo me questo mette un po' a disagio un po' tutti, sia giocatori, sia ambiente anche tecnico che in pratica si prendono delle colpe che probabilmente non hanno o che eventualmente potrebbero avere solo in parte e secondo me complica tutta la situazione. Io sinceramente un ambiente così ostile, così diciamo anche nascosto nella vita di tutti i giorni, non l'avevo mai vista fa' no. Diamo un'occhiata alle immagini della gara di domenica, gli episodi salienti, hai parlato di una situazione fuori dal campo che è problematica, tu hai avuto un primissimo approccio con il presidente russo al momento del suo arrivo e c'era stata anche l'ipotesi di intavolare una collaborazione. Poi come si sono sviluppate le cose, che idea ti sei fatto di russo, soprattutto in questa fase in cui ormai da tempo sembra orientato a liberarsi dell'alma ma poi alla fine resta in sella? A me mi ha sempre dato l'idea che sono tutte, anche l'approccio che ha avuto con me, mi ha chiesto più di una volta di fare quello che volevo, poi all'atto pratico sfuggiva come sta sfuggendo a tutte le proposte o le situazioni che si potrebbero verificare. In funzione di un avvicendamento sociale. Esatto, una volta vuol vendere, una volta non vuol vendere, io non l'ho ancora capito e onestamente per quello che dico non si capisce dove si vuole arrivare, qual è l'obiettivo di tutto, perché obiettivamente io sinceramente dall'inizio del campionato sono rimasto piacevolmente sorpreso dal Fano, dalla squadra e sinceramente pensavo che la cosa poteva essere molto più pericolosa di quello che può essere il campionato. Però sinceramente quello che vuole fare, ce l'ha con il Fanesi e vuole tenere la squadra. È difficile decodificare quelle che siano le sue reali intenzioni. Quanto alla squadra, come l'hai vista, credi che comunque abbia i mezzi per togliersi di impaccio da questa situazione? Oppure per la piega che hanno preso le cose con il divorzio da Scorsini, mettiamola in questa chiave, e la squadra affidata ad Alberto Rondina c'è da essere preoccupati, non tanto per Rondina, ma per il contesto generale? Sì, allora, quello che dicevo prima, cioè sia Scorsini sia soprattutto Rondina, cioè ereditare una situazione del genere, cioè non è una cosa semplice, perché non è questione di essere bravi, esperti. Qui si tratta di gestire non solo la squadra, ma di gestire tutto un ambiente e sicuramente non è un giovane, anche se bravo, promettente come Alberto, che sinceramente si mette ancora di più in difficoltà lui e si responsabilizza, lui che nonostante tutto in questa faccenda non ha responsabilità. Però secondo me a me non piace come viene gestito tutto, qui non ci sono punti di riferimento reali per nessuno e questo qui secondo me è uno dei lati positivi, cioè qualsiasi squadra, anche la più scarsa, quando c'ha dietro una società seria, c'ha dietro dei punti di riferimento, alla lunga viene fuori. Io sinceramente ho paura un po' per il Fano adesso, perché proprio c'è questa situazione, cioè sono giovani, adesso tra un po' si darà la colpa a quel giocatore, a quell'altro che ha sbagliato di qua, che ha sbagliato di là, per cui entrare in campo spavaldi con entusiasmo, con diciamo anche spregiudicatezza e tutto è un conto, entrare dentro con la paura, col carico di responsabilità e tutto è un altro. In più ci sono i campi pesanti, arriveranno i campi pesanti, per cui una rosa... La domenica la situazione era un po' disagevole da questo punto di vista. Per cui io non l'ho vista la partita, però è chiaro che ci sono i ragazzi... Si accavallano le situazioni, insomma, difficili da gestire. Alma che sarà impegnata domani in Coppa Italia a Campobasso, probabilmente di questa partita si sarebbe fatto volentieri a meno in questo momento, considerata anche la trasferta molto onerosa dal punto di vista fisico. Nel frattempo Russo ha nominato un nuovo responsabile dell'area tecnica, Di Cuonzo, nonostante sia presente, almeno nel fine settimana, quello che è da ritenere un direttore sportivo. Corsale, l'altra decisione presa è rinunciare a Viscovo, che era stato ingaggiato a seguito dell'infortunio di Guerrieri, che nel frattempo è guarito. Squadra per il momento sempre affidata a Rondina, che però deve scontare quattro giornate di squalifica, una già alle spalle e anche questo è un handicap non da poco. Tu che hai fatto l'allenatore sai benissimo quanto è importante essere vicino alla squadra. Certo, soprattutto in questo momento che è in difficoltà sia la squadra sia probabilmente ha qualche problema anche a Rondina, perché avere altre tre giornate di squalifica e magari non riuscire a farsi sentire direttamente, secondo me è un handicap grosso. Però è una situazione che secondo me è molto, cioè per dire la faccenda, volevo tornare indietro, la faccenda di Viscovo è una cosa abbastanza logica, cioè che due portieri come Guerrieri e Viscovo fossero sciupati. Rappresenti un lusso soprattutto per una squadra che non ha obiettivi così ambiziosi. Esatto, quindi uno bastava, per cui ha fatto bene quello che ha fatto a prendere Viscovo al posto di Guerrieri se dietro non aveva le garanzie dal dodicesimo o altro per giocare titolare. Però secondo me è tutto il resto che non quadra. Un'occhiata alla classifica e ai risultati prima ancora con la Samere Dettese che liquida anche l'Aquila e sembra imbastire un tentativo di fuga. Altro risultato significativo è quello dell'Avezzano su Roma City, che è la squadra segnalata in forma e che consente ai marsicani di farsi notare. Alle spalle della squadra rosso-blu il Chieti si deve accontentare di uno 0-0 a Termoli che come vediamo dalla classifica consente alla squadra nero-verde di restare appunto a ridosso del vertice. Hai anche tu l'impressione che la Samere Dettese abbia tutte le carte in regola, quest'anno anche societarie per fare la differenza? Certo, io tra l'altro sono stato a Samere Dettese e so come funziona in pratica. Cioè lì quando vai bene vai in discesa, quando vai male è difficile cambiare la rotta, però è partita bene, c'è un dischetto margine, per cui quando lì anche il pubblico spinge e se rema tutti dalla stessa parte è difficile che perda questo campionato, sinceramente, secondo me. E tra l'altro la nuova società sembra offrire quelle garanzie che in passato spesso a Samere Dettese le proprietà non hanno offerte. Esatto, infatti questo avvalora ancora di più quello che dicevo prima, cioè che se c'è la società si lavora tutti bene, si sente protetti, non c'è bisogno, non c'è nervosismo, non c'è ansia, eccetera, per cui si lavora e quando lavori, lavori bene sul campo e non hai problemi da gestire fuori, è un'altra cosa, insomma. Continua a fare bene anche il Fossombrone che ha battuto la Vigor Senigallia per 1-0, una matricola che osservavamo anche con altri ospiti, ha mantenuto l'intelagliatura, l'idea di gioco e questo paga sempre. Sì, questo paga sempre, di sicuro, soprattutto all'inizio campionato, però il Fossombrone, a parte i tre punti della vittoria Tavolino, comunque sta facendo, ha una continuità enorme, quello succede quando, visto che all'organico più o meno dello scorso anno, sicuramente tanti problemi che hanno avuto altre squadre che invece si dovevano assemblare, probabilmente non le hanno avute, però sta dimostrando di meritare l'alta classifica al di là appunto dei tre punti che ha acquisito col Fanno, insomma. Continua a girare per i campi, continua a guardare partite, allora viriamo sul campionato di Serie C, in particolare sulla Vispesaro, ma sulle marchigiane più in generale. Vispesaro che ha ottenuto una vittoria molto importante a Lucca, perché sì, era arrivata prima una Serie utile, ma non aveva risollevato più di tanto le sorti in classifica. Questa vittoria può segnare la svolta? Ma secondo me sì, molto meritata poi, non è stata una vittoria casuale. E penso che di tutte le partite che ha fatto il Pesaro, questa qui sia stata la migliore, soprattutto dove ha meritato di più di vincere. Niente, i giocatori li ha, la potenzialità ce l'ha, e per cui anche i ricambi li hanno, hanno dei buoni giovani che vengono appunto chi dal Venezia, chi da altre squadre. Però è una squadra tosta ed è difficile, secondo me, per tutti giocarci contro. Questa Recanatese così in alto ti sorprende? No, la Recanatese è una squadra che è forte, è forte perché i giocatori del livello di Melchiori e Sbaffo e Carpani, ci aggiungo io, non ce l'hanno in tanti. C'è un allenatore che è molto pratico e che comunque sa di calcio, ma non di formule o di parole, conosce il calcio vero, nel vero senso della parola, per cui stanno rendendo al massimo e hanno una facilità ad andare in porta che poche squadre hanno. Anche lo stesso Cesena, nonostante sia la squadra nettamente più forte di tutti, è molto pratica, però non c'è la facilità di andare in porta che c'è alla Recanatese. Citando il Cesena, ci offri la possibilità di aprire l'album dei ricordi, di cominciare a sfogliare qualche bella pagina, cominciando da immagini degli inizi degli anni 70, forse ancora prima. Questa è una sintesi, una sfida fra Cesena e Juventus. Prima degli anni 70, no? Sì, ma dopo vedremo anche cose ancora più dati. Questa è una sintesi di una gara che il Cesena ha disputato in casa contro la Juventus, credo sia finita. 2-2. 1-1 con gol di Garlini, tra l'altro. No, con gol di Schachner. Forse Schachner, adesso sarebbe da verificare. Allora, il gol di Schachner, se non sbaglio, può darsi che sia un'altra partita. L'ha fatto su un rilancio che ho fatto io da metà campo. Benissimo. Cioè, un rilancio, non ho detto un lancio. Qual era il tuo avversario diretto in questa partita? Forse Rossi. Forse Paolo Rossi. Di sicuro, e vedremo tra poco anche le immagini... O Galderizio Rossi era messo. Le immagini, questo è Bredi che conclude in porta, vedremo anche le immagini addirittura in bianco e nero tra poco di un Juventus-Atalanta, con l'Atalanta che in quel caso finì addirittura in nove con Pizzaballa protagonista. In questo caso il tuo avversario diretto era Bettega. Sì, io contro la Juventus marcavo quasi sempre Bettega, per cui... Non si sbaglia. Non si sbaglia. Che ricordi hai di quegli anni, con il tuo intervento in anticipo su Bettega? Che ricordi ho? Belli. Non mi sembra... Ormai non mi ricordo neanche più, infatti tante immagini e tante partite non me le ricordo. e vedo qualche... con internet o Facebook ogni tanto vedo qualche immagine, ma io... eccolo. Ecco qui, duello con Bettega, duello aereo. Sì, sì. Direi abbastanza caratteristico nelle tue corde. Diciamo di immagini ancora più datate, possiamo passare alle foto, perché qui sei ritratto addirittura all'inizio della tua avventura calcistica con l'Hardor, anno 1966. Ah, è passato un po' di tempo. Perché eravamo in nove? Questo non te lo so dire perché non ero presente all'epoca. Mentre successivamente ti vediamo ritratto con l'Alma Juventus Fano, dove avevi disordito e ti sei segnalato al Bologna che poi ti acquistò, e tra l'altro qui è ritratto con te Fausto Mazzanti, di cui oggi è arrivata la notizia della scomparsa. Infatti Fausto era quell'anno lì, siamo andati a provare insieme a Bologna, eravamo io, lui, Canestrari e Camborata. Infatti lì c'è anche Camborata. E niente, dopo sembrava che ci avessero preso tutti e quattro, invece poi hanno preso solo a me e a Canestrari. E ti vediamo con la maglia del Bologna, ritratto nell'immagine successiva. Con il Bologna hai fatto il tuo esordio in Serie A, credo contro la Lazio, ricordo male? Sì, sì. E dopodiché si aprono altre stagioni, col Brindisi a farti le ossa, come si suoleva dire all'epoca, ma anche oggi. Da novembre. E successivamente appunto le due grandi avventure, prima l'Atalanta, e quindi vediamo ritratto. Questo mi sa che lo spareggio... In una posa tipica. Per andare in Serie A. E successivamente col Cesena, e qui c'è un duello con Roberto Mancini, allora pressoché debuttante, e ancora vedremo un'immagine sempre di un Bologna-Cesena che per te aveva un sapore particolare, essendo in qualche modo la tua affermazione avvenuta con la maglia del Bologna. Sì, poi giocavo contro, per dire in questo caso, Chiodi, che poverino anche lui è morto, però erano amici, perché dietro mi sembra che sia Paris, quello del Bologna lì dietro, per cui sì, Bologna era sempre... Solo che quello che mi stupisce è che non ero più abituato a vedere così tanta gente allo stadio. Beh, allora non c'era la concorrenza delle televisioni. O il calcio si vedeva dal vivo, oppure non si vedeva. Sì, ma per dire, a me, Cesena Bologna era un derby, però ho visto altre immagini anche del Brindisi, così, che è pieno di gente, al contrario di quello che c'è adesso nello stadio. È un segno dei tempi. Ringraziamo Giovanni Mei per essere stato il nostro ospite questa sera a Sportissimo. Noi torniamo fra qualche istante. Grazie. E adesso la pallavolo è un'altra sconfitta pesante, oltretutto inaspettata, quella incassata dalla Smart System domenica scorsa a Palmi. Vediamo le immagini di una gara a senso unico con la formazione regina che ha dettato legge dall'inizio alla fine, mai consentendo alla squadra di Tofoli di entrare concretamente in partita. Si sapeva che Palmi, attardata in classifica, vantava comunque un potenziale significativo. Non solo l'ex Stabrava, protagonista anche domenica scorsa, ma anche altri giocatori di grande esperienza. Sinora deludente il rendimento della squadra calabrese, che però in occasione del match di domenica scorsa ha trovato gli stimoli e anche la determinazione per esprimersi al meglio al cospetto di una Smart System che ha sofferto moltissimo in ricezione e che non è riuscita a sviluppare il proprio gioco. Cosa che peraltro in trasferta sta avvenendo con una certa frequenza. Vero che sinora, almeno sino a domenica scorsa, la formazione virtussina era stata battuta soltanto a Sorrento, ma in una gara diversa in cui aveva sciupato vantaggi consistenti. Altrettanto vero che il rendimento casalingo e la disinvoltura che la Smart System esibisce in casa non trova sinora riscontro lontano dal Palace Allende. Vedremo cosa accadrà domenica prossima quando la formazione fanese sarà di nuovo sul terreno amico contro un Modica, formazione che nell'ultimo turno, e vediamo i risultati, ha avuto la meglio al tie-break in rimonta su Casarano, l'unica partita dall'andamento veramente incerto. Per il resto da segnalare il nuovo exploit di Macerata che è passata anche sul campo del Sabaudia così consolidando il proprio primato in classifica. Anche il Lago Negro, dopo il passo falso di Fano, si è riscattato a spese del Napoli. Il Sorrento, che continua a farsi notare per il suo rendimento altalenante, è stato sconfitto a Bari. Quanto alla classifica, dicevamo di Macerata, che prova a prendere il largo, 4 punti di vantaggio ora sulla Smart System e 5 sul Lago Negro, alle spalle delle prime tre San Giustino, che ha riposato domenica scorsa, in fondo alla classifica Marcianise, con davanti Sabaudia. Francamente non potevamo scegliere il momento migliore per tornare a parlare di tennis freschissima. L'immagine degli azzurri che a Malaga sollevano quella Coppa Davis che in Italia mancava da quasi 50 anni. E' proprio dietro l'impulso di Sinner e i suoi compagni d'avventura in azzurro che il tennis sta avendo in Italia un grandissimo sviluppo negli ultimi 20 anni. L'incremento dei tesserati in particolare ha assunto proporzioni gigantesche. A Fano il tennis è portato avanti ormai da decenni e vedremo quanti dal Circolo Tennis Fano, di cui ospitiamo stasera il presidente Leonardo Principe. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. E il direttore tecnico Federico Cinotti. Dicevamo di una storia lunghissima. Circolo Tennis Fano fondato addirittura nel 1901. Un dato che ha il suo bel significato, presidente. Ha un grande significato per il tennis e per la città di Fano. È vero che è stato fondato nel 1901 tra i primi circoli in Italia ad ersesi costituito. E oggi vanda un numero di associati molto significativo. Parliamo di? Di circa 250 associati, più tutto ciò che riguarda il circuito della scuola tennis. Quindi con tanti giovani, tanti ragazzi, tanti futuri, speriamo, tennisti, che spero in qualche modo possano affermarsi, ma soprattutto che possano fare il loro percorso nel tennis, ottenendo i migliori risultati, secondo le aspettative di ognuno. Soci delle più diverse età, e questo è un riflesso del fatto che questo circolo si sia costituito tanto tempo fa, e nei decenni ci sia stato sempre un manipolo, se non un gruppo ancora più ampio, di appassionati di tennis e di praticanti di tennis. Senza dubbio. Abbiamo ragazzi che si avvicinano al tennis all'età di 5 anni. E abbiamo associati giocatori che anche ultrano novantenni praticano il gioco del tennis, che è uno sport bellissimo, uno sport individuale, ma in realtà poi si svolge in un gioco di squadra. Il gioco di squadra comincia con la scuola tennis, dove i vari ragazzi giocano, si confrontano con i loro compagni di viaggio, in questo percorso di crescita, e poi si sfidano nel corso dei tornei. Quindi è vero che è uno sport individuale, ma in realtà viene esercitato in un contesto assolutamente di squadra. E in questo devo dire che il circolo ha dato dimostrazione di grande capacità organizzativa e soprattutto tecnica. Poi sicuramente il maestro farà un escursus. E appunto, sull'attività di formazione vigila ormai da molto tempo Federico Cinotti, non diciamo da quanto, un'attività di formazione che a sua volta ha assunto dimensioni di un certo tipo e che continua a crescere. Assolutamente sì. Lo notiamo tutti gli anni quando iniziamo l'attività. Lo notiamo proprio dal riscontro che abbiamo sia di affetto e di legame dei ragazzi nei nostri confronti. Negli ultimi dieci anni la scuola ha operato molto bene, devo dire. Abbiamo raggiunto dei notevoli risultati, tra cui abbiamo vinto ben undici titoli regionali di categoria individuale, quattro titoli regionali a squadre, tre titoli nazionali sempre di categoria in semifinale e due finali sempre di categoria proprio due anni fa. Poi abbiamo due ragazzi di interesse nazionale, tra cui Marco Cinotti, stato convocato qualche anno fa con la rappresentativa nazionale Under 12, e forse ecco la persona, la ragazza che al punto di vista giovanile ci ha reso più onore, Federico Urgesi che l'anno scorso ha vinto un titolo Slam in Australia. E che abbiamo avuto modo di ospitare in quell'occasione. Un'attività sulla quale credo abbia esercitato un effetto traino l'onda azzurra, perché prima sono venute le donne, Pennetta, Vinci, Schiavone, Compagnia Cantante, poi sono arrivati gli uomini. Lo avvertite concretamente questa ricaduta positiva? Assolutamente sì, devo essere sincero che la federazione e anche tutti gli operatori, gli insegnanti, i 13 mila insegnanti che ci sono sul territorio nazionale, hanno fatto di tutto perché ciò avvenisse. La passione con cui portano avanti ogni giorno l'attività, coinvolgendo sia l'ambiente che i genitori e i ragazzi, ha fatto sì che tutto ciò potesse accadere. È ancora valida la pregiudiziale, chiamiamola così, che riguardava il tennis e che scoraggiava più di qualcuno, che magari al tennis voleva avvicinarsi, che cioè ha costi per un ragazzo, un bambino, che volesse praticare più alti rispetto ad altri sport? Allora, è logico che il tennis, avendo un rapporto allievo-maestro più basso e dei costi vivi, di gestione, logicamente ha dei costi leggermente più alti. Però è anche vero che da anni noi stiamo cercando di calmerare proprio tutti i prezzi dei vari corsi, addirittura veniamo incontro ai ragazzi facendoli fare dei mesi gratuiti nel periodo estivo e nel periodo poco prima che iniziano le scuole. Quindi noi stiamo facendo di tutto per far sì che il tennis possa essere alla portata di tutti, almeno iniziarlo a provare. Poi dopo, se piace, sicuramente siamo i primi di aiutare a tutti quanti. Quali sono i principi, non solo tecnici, che seguite nella formazione di questi bambini e di questi ragazzi? Ma allora, la cosa fondamentale per noi è che si trovano bene, si devono ambientare, devono trovare un contesto, diciamo, favorevole per il loro sviluppo. La parte tecnica, sì, sicuramente importante, perché è uno sport tecnico, il tennis. Però, non dico che vieni un secondo piano, però la prima cosa che cerchiamo di fare con questi ragazzi è di farli star bene e trovare un modo per potersi sentire realizzati. Un circolo con un suo vissuto, l'abbiamo in qualche modo declinato, ma anche con un presente confortato dal fatto di disporre di una struttura, direi, estremamente competitiva, se vogliamo metterla su questo piano. Senza dubbio, è una struttura complessa che richiede, ovviamente, un impegno importante da parte di tutti, da parte soprattutto del direttivo, ma anche della squadra tecnica e soprattutto di una sinergia con l'amministrazione comunale, che, devo dire, ci è stata sempre molto vicina, in particolare l'assessore allo sport, Barbara Brunori, che ringrazio per il suo impegno e pertanto sì, non è facile, però devo dire che nell'ultimo periodo abbiamo testato un po' con la struttura, perché abbiamo vissuto purtroppo il periodo del Covid, il caro energia, e avendo superato tutte queste difficoltà ci ha in qualche modo fortificati. Quindi siamo in grado oggi di offrire ai nostri associati tutti i servizi necessari per svolgere al meglio l'attività sportiva. Vi siete messi definitivamente alle spalle anche il momentaccio che il circolo tennis ha vissuto qualche anno fa a livello finanziario? Sì, sì, posso dire che siamo usciti da una situazione non facile, in un momento difficile, e oggi siamo orgogliosi. E come ha anticipato lei, ha segnalato questo movimento tennistico e oltremodo in questo momento spinto dai risultati dei nostri atleti più blasonati, e quindi dà un forte impulso, e soprattutto stimola i più giovani ragazzi ad essere sempre più determinati in un clima di assoluta lealtà e sportività, che è quello che caratterizza anche lo sport del tennis, fondamentale per i più piccoli e anche per i più grandi. Da sempre i circoli tennis si connotano anche per un'attività proprio di carattere sociale, fanno in qualche modo da coagulo, non solo rispetto ai soci, ma anche rispetto a persone che non fanno parte del circolo, prestando ai propri ambienti anche iniziative di carattere sociale, ricreativo e ludico. È così e quanto è importante anche questo aspetto? È così anche per il circolo tennis, che può vantare una clubhouse in grado di ospitare anche eventi a carattere sociale, organizzate anche da società esterne, e questo ci permette di creare un ambiente ottimale, dove appunto gli sportivi hanno l'occasione per ritrovarsi e quindi consolidare questo rapporto, questo legame con il circolo. In estate oltretutto prestiamo la nostra struttura alle società che vogliono svolgere attività di campi, diciamo di corsi estivi per i ragazzi, e quindi attività ludico-sportiva. Quindi c'è una struttura in grado di dare tanto e noi ci impegniamo affinché tutto questo sia fruito nel migliore dei modi. Struttura che si compone di campi da tennis, ovviamente coperti durante l'inverno, ma anche da campi di calcio A5, in particolare quello coperto, che costituisce a Fano una valvola di sfogo indispensabile, perché è l'unica struttura che ha dimensioni regolamentari per lo svolgimento del calcio A5. Sì, anche in questo caso il circolo tennis offre una grande opportunità a tante squadre di calcio A5 che possono svolgere la loro attività, quindi gli allenamenti, le partite ufficiali. È un campo, come ha detto lei, abilitato per le partite di serie A, serie B, serie C, e quindi siamo in grado di ospitare anche l'attività del calcetto, i nostri sei campi da tennis in terra, il campo da tennis in erba sintetica, un campo anche da calcetto per altre attività e da quest'anno, ci tengo a dirlo, abbiamo introdotto anche due campi per svolgere il city tennis. È una disciplina sportiva che oggi si sta fermando. Abbiamo trattato anche in questa trasmissione con Gazzè che è il suo portabandiera. Ecco, siamo felici di aver ospitato, di ospitare anche questa attività e quindi ogni proposta, ogni occasione per noi è un momento di grande soddisfazione nel sostenere anche le altre associazioni sportive che hanno bisogno di strutture come quella del circolo tennis Fano. Citi Fano, stella d'oro al merito sportivo del CONI, Citi Fano che ha visto avvicendarsi tanti personaggi in questi decenni, ricordiamo fra tutti Gino Pianosi scomparso recentemente che è stato presidente del circolo tennis in una stagione che si è caratterizzata soprattutto o anche per l'organizzazione di un torneo internazionale di tennis che ha portato in quella stagione a Fano figure di primo piano quali si sarebbero rivelate del tennis femminile come Flavia Pennetta. C'è la possibilità che in futuro il circolo tennis Fano torni ad organizzare manifestazioni di questo tipo? Oggi sì, oggi posso dire che il circolo è nella condizione. Dopo aver superato tutte le difficoltà che in qualche modo ha sintetizzato e oggi possiamo pensare a un prossimo evento sportivo che possa riportare Fano al centro del tennis nazionale ma anche internazionale. Oggi è il nostro obiettivo e riusciremo in questo, ne sono convinto. E magari offrire una ribalta non soltanto alla Urgesi ma anche a qualche altra rappresentante del tennis giovanile nazionale. A questo riguardo il ciclo tennis Fano mi dicevate offre ospitalità durante l'estate anche ad un paio di giovanissimi atleti originari in qualche modo con la famiglia di Fano e che si stanno facendo largo. Assolutamente. Sono la famiglia Darderi che sono due fratelli fortissimi Luciano che è fra i primi 150 al mondo che per un soffio non è entrato nel ranking delle next gen e Vito che è il fratello che ha 15 anni ed è campione europeo della sua categoria. Doppia nazionalità per entrare. Sì, doppia nazionalità e quando si trovano qua in zona fanno proprio sede al nostro circolo in quanto il padre sin da ragazzo è sempre stato affezionato a noi tra l'altro giocava anche quando giocavo io siamo molto amici e quindi ha continuato a mantenere diciamo questo affetto e questo legame con il ciclo tennis Fano perché comunque li ha portato bene con il tempo. Mi affido all'Occhio Clinico di Cinotti quando un ragazzino, un bambino viene a fare tennis si riesce a cogliere subito qualche dote specifica che può pensare che possa arrivare da qualche parte oppure è ancora presto? Ma diciamo che i bambini così tra virgolette diciamo dotati con talento che poi il talento non è soltanto quello tecnico ma i talenti sono tanti è logico che nel tennis anche il talento mentale assolutamente sicuramente risaltano però questo non vuol dire che ogni bambino non abbia i suoi tempi diciamo di maturazione e quindi noi comunque a prescindere da quello che vediamo all'inizio seguiamo tutti quanti i bambini logicamente con lo stesso interesse perché sappiamo che ogni comunque ogni ragazzino ha i suoi tempi e speriamo comunque che piano piano ecco questo processo possa avvenire. Come si sviluppa l'attività di reclutamento? Avete anche qualche rapporto con le scuole? Dove andate a pescare i ragazzi e le ragazze? Sì abbiamo negli anni sempre avuto dei buoni rapporti con le scuole con i presidi facciamo una grossa attività promozionale nel periodo estivo lasciamo proprio due settimane degli spazi riservati con dei maestri proprio specifici che accolgono i ragazzi che vogliono venire a provare questa disciplina e poi anche quando diciamo abbiamo degli eventi importanti come dei tornei open o dei tornei giovanili in quell'occasione leghiamo sempre diciamo delle manifestazioni che possono un pochino così avvicinare e stigare i bambini poi a riprendere la racchetta in mano. Lasciamoci tracciando gli obiettivi per il futuro a breve termine ma anche a medio e lungo termine Presidente. Sicuramente sostenere la scuola l'attività della scuola tennis è per noi fondamentale rispondere alla crescente domanda di ragazzi che vogliono intraprendere lo sport del tennis per noi è fondamentale e oltre tutto questo abbiamo in programma tornei anche di carattere internazionale poi organizzeremo un torneo diciamo molto particolare nel senso che in primavera avremo la presenza di circa 40-50 prelati che si sfideranno sui campi da tennis e questa sarà una bella occasione un bel momento per celebrare che calamiterà anche l'attenzione mediatica in basi perché non capita tutte le volte senza dubbio dal punto di vista invece tecnico Cinotti cosa può augurarsi per il futuro? Ma diciamo come diceva il Presidente a me non dispiacerebbe se riuscissimo a riconfermare visto che sono passati qualche anno ormai un evento internazionale e ci stiamo adoperando e muovendo perché questo avvenga logicamente non ce ne facciamo un assillo perché comunque diciamo l'organizzazione non è semplice però faremo di tutto perché le cose possono andare in porto grazie a Federico Cinotti direttore tecnico del circolo tennis Fano grazie a Leonardo Principe presidente del club fanese noi torniamo fra qualche istante il tempo dei bilanci non è per tutti gli sport lo stesso nel caso del ciclismo è questa la stagione per tracciare il consuntivo di quello che è accaduto nei mesi precedenti e lo ha fatto in queste settimane anche l'Alma Juventus Fano ciclismo di cui accogliamo questa sera il presidente Graziano Vitali buonasera e benvenuto e il vicepresidente Fabio Francolini buonasera benvenuto anche a lui cominciamo appunto da qualche numero cos'è successo in questi mesi all'Alma Juventus Fano se soprattutto siete soddisfatti di quello che siete riusciti ad ottenere Francolini sì siamo soddisfatti perché comunque siamo riusciti a fare una stagione nonostante che all'inizio c'erano dei numeri più risicati durante la stagione i numeri sono aumentati il dopo Covid ha lasciato dei segni ma adesso siamo ritornati ad un livello di tesserati notevoli la stagione è stata positiva anche per i risultati per quello che può valere i risultati nella categoria giovanile chiaramente però campioni regionali su strada nella categoria allievi quindi grande partecipazione molte vittorie nella categoria allievi che diciamo quella un pochino dove i risultati sono un po' più importanti mentre nella categoria giovanili lasciano il tempo che trovano sono risultati importanti per il momento per i ragazzi ma diamo meno importanza a queste cose diamo più importanza al progetto educativo e sportivo della disciplina più che risultati è stata una stagione molto positiva anche nell'organizzazione delle gare abbiamo organizzato tantissime gare soprattutto la gara che facciamo sempre a Fano nel circuito ciclistico presso Marconi riservate ai giovanissimi e agli esordienti e abbiamo realizzato anche la seconda edizione della Rossini Raffaello una gara in linea particolare nata l'anno scorso dall'idea di alcuni amici di Pesaro che ci hanno chiesto di supportarla e praticamente partenza da Piazza del Popolo e arrivo sotto i torricidi del Palazzo Ducale di Urbino un percorso bellissimo lungo tutta la vallata del Foglia in linea dove arrivano vengono circa 160-170 ragazzi da tutta Italia e vengono i più forti perché è la gara che precede i campionati italiani di categoria per cui è stata una stagione assolutamente positiva avete messo in mostra anche qualche ragazzo più di altri di chi si tratta sì sicuramente abbiamo un ragazzo che è talentuoso cioè adesso quello che sarà in futuro non lo sapremo ma al momento è un ragazzo molto interessante a livello italiano infatti il prossimo anno farà il salto di categoria degli Uniones con una squadra toscana parliamo di? di Sgherri Giacomo che comunque ha vinto diverse gare purtroppo nel momento in cui ha avuto una convocazione per uno stage con la nazionale ha rotto un braccio però si è ripreso nel giro di pochissimo tempo la prima gara o anzi la seconda gara che ha fatto dopo l'infortunio addirittura ha vinto e poi il compagno di squadra suo che va anche lui in Toscana che si chiama Nicoloso Luca che anche lui andrà come dicevo prima in Toscana che ha vinto il campionato regionale quindi lui è il campionato regionale per questa stagione di categoria la vinta della propria la gara organizzata da noi nella Rossini Raffaello quello che colpisce dell'Alma Juventus Fanum ma del fenomeno ciclismo in generale è che per un certo numero di ragazzi occorrono forse altrettante persone che le seguono fra tecnici e volontari diciamo con altre mansioni è uno sforzo organizzativo credo molto impegnativo Presidente sì questo questo è vero poi vorrei portare l'attenzione sul fatto che noi ci basiamo completamente sul volontariato e ci pregiamo del fatto che tutti i nostri atleti non pagano a rette mensili o annuali e penso che probabilmente saremo l'unica società dilettantistica che fa questo lo facciamo perché vogliamo che lo sport si è proprio fatto a livello di base dove ci sia questo sano dilettantismo e non lo facciamo per secondi fini per offrire dei secondi lavori a qualcuno e molte delle iniziative che facciamo diciamo mettono l'attenzione alla crescita dei ragazzi ne volevo segnalare una in particolare a fine stagione facciamo una graduatoria di un'iniziativa che si chiama Io a Talento in questa iniziativa raccogliamo diciamo i risultati agonistici dei ragazzi durante la stagione la loro partecipazione agli allenamenti e i risultati scolastici alla fine tiriamo le somme diamo un piccolo premio economico ma quello che vogliamo sottolineare con questa iniziativa è l'attenzione che i ragazzi devono dare alle attività anche collaterali allo sport non pensare solo allo sport perché abbiamo visto ad esempio che chi è bravo nello sport molto spesso è anche bravo a scuola e sottolineare il fatto di impegnarsi con continuità per questo diamo anche una parte importante anche a chi partecipa agli allenamenti e se guardiamo appunto i risultati degli anni precedenti vediamo che chi era bravo sul nelle corse alla fine vinceva anche questa ma non per risultati anche agonistici ma anche per quelli scolastici a quale bacino d'utenza si rivolge l'Alma Juventus Fano in questo senso Francolini agevolato dal fatto di rivestire anche un ruolo in ambito provinciale e federale il bacino d'utenza dell'Alma Juventus Fano è chiaramente tutta la vallata del Metauro noi abbiamo ragazzi di Fano ma abbiamo anche ragazzi di Pesaro abbiamo ragazzi di Pesaro soprattutto nelle categorie agonistiche perché a Pesaro una squadra che fa la categoria giovanissimi c'è già la Pesaro Young Rider che faticosamente hanno ricominciato il progetto del ciclismo peso giovanile e in attesa di avere anche loro una struttura che nascerà presto una struttura per poterli allenare in tranquillità perché uno dei problemi principali che ci sono è che non si hanno strutture adeguate nelle varie zone noi per fortuna abbiamo il circuito Marconi che agevola tantissimo gli allenamenti e si possono fare soprattutto in sicurezza quindi il bacino d'utenza è la vallata in metà ma abbiamo ragazzi di Caglia abbiamo ragazzi di Urbania perché abbiamo avuto ragazzi di Pian di Meleto perché ragazzi che hanno voglia di fare ciclismo purtroppo nella nostra provincia il ciclismo giovanile ci siamo solo noi e Pesaro e poi nel fuoristrada c'è Mondobici di Fermignano che ha un bel bacino di ragazzi ma nell'interno va molto più forte il fuoristrada ecco qualora ci fossero più realtà ci sarebbe anche un'adesione maggiore da parte dei ragazzi è questa la tua sensazione? sì sicuramente però gestire un gruppo sportivo è molto difficile ci vuole ci vuole uno settore tecnico preparato che abbia fatto tutti i corsi adeguatamente perché lavorare con i ragazzi non è una cosa non è che si può improvvisare questa cosa qui ci vuole una dirigenza che sappia supportare il settore tecnico e quindi ci vuole molta pazienza molta pazienza molto tempo libero che a volte lo strappiamo dalle famiglie fortunatamente abbiamo le mogli che ci lasciano fare altrimenti sarebbe un problema e quindi molte società all'interno non nascono proprio per queste paure perché poi dopo non è un hobby ma è un impegno quanto hai dei ragazzini non puoi dire oggi non ho voglia oggi parto con loro quindi questo frena molte realtà nel mondo amatoriale la provincia di Pesaro è forte ma pochi fanno qualcosa per i ragazzi abbiamo una perla qui a Fano che è la Centilarolese che loro è una società ciclamatoriale che da un paio d'anni è affiliata con la federazione italiana che organizzano una gara una a due giorni tra l'altro spettacolare una crono scalata una corsa in linea per la categoria allievi però è una non si riesce a trovare un terreno fertile per coinvolgere a far ciclismo ai ragazzini ospitando il dirigente storico Ambrosini e anche Simone Paradisi nei mesi scorsi si era fatto riferimento all'eventualità di mettere in piedi una formazione Juniors per così assicurare continuità allo sviluppo sportivo dei vostri ragazzi è un progetto che si è arenato si è arenato definitivamente quali sono le problematiche che probabilmente sono da ricondurre al fatto che comunque è già un grande impegno fare quello che fate e diventerebbe un impegno ancora più gravoso fare una squadra Juniors per noi è un sogno coronerebbe un percorso per i ragazzi perché se consideri che qualcuno è con noi dai 7 anni e ci lascia 16 anni sarebbe il massimo portarlo anche ai 18 perché noi prendo spunto da quello che diceva Fabio prima lo scopo principale che abbiamo è seguire i ragazzi in un periodo della loro vita che è difficile tutti abbiamo figli e sappiamo che cosa significa avere figli a 12 13 14 15 16 anni e averli soprattutto oggi e noi sappiamo siamo congi quello che è il nostro Fabio quando parla di impegno noi sappiamo che quelli che sono ragazzi oggi saranno gli uomini di domani quindi è un bel impegno che ci prendiamo e ci stiamo veramente attenti a questi fare gli Juniors è un impegno gravoso anche dal punto di vista economico perché usciamo un po' da quella crescita che facciamo fare ai ragazzi si arriva già a livelli agonistici importanti con allenamenti importanti quindi anche tutta la struttura che serve per seguire gli Juniors diventa importante insomma bisogna fare un ragionamento serio e garantirsi anche le coperture non vorremmo mangiarci quello che è stato messo da parte in tanti anni in più di 40 anni di attività molte le attività che vogliono distinguersi anche sul piano dell'inclusività e fra queste l'Alma Juventus perché recentemente è stato presentato questo progetto tutti in bici al quale l'Alma Juventus offre una sponda tecnica importante di che cosa si tratta? Praticamente il nostro tesserato Simone Paradisi che si è interessato maggiormente di poter offrire il suo tempo a questo progetto quella di poter mandare in bicicletta dei ragazzi con disabilità è un progetto molto interessante anche lì richiede è faticoso però nel circuito ciclistico di Fano riusciamo a portare questi ragazzi ad andare in bici come giusto che sia poi ci sono hanno vari mezzi si creano dei percorsi si creano delle piccole delle mini gincane per poterli farli divertire perché comunque il ciclismo è divertimento per cui questa è una cosa che comunque bisogna sempre tenere in considerazione ci teniamo molto e se il comune ci propone qualcosa di queste cose qui noi interagiamo molto con l'amministrazione comunale interagiamo molto anche in maniera molto positiva sia da quanto si fa la città dei bambini a tutte le varie eventi anche quest'anno non siamo riusciti a fare Halloween a Sant'Orso perché non avevamo le persone per poterlo fare però se c'è da fare qualcosa ci mettiamo a disposizione perché comunque per i ragazzi dà anche gusto fare queste cose abbiamo già trattato appunto della questione Juniores ma volendo fissare qualche obiettivo già per la prossima stagione per le stagioni a venire quali sono le priorità Presidente? Ma guarda è sempre è sempre più difficile far sì che i ragazzi arrivano ai 16-17 anni non tutte quest'anno avevamo un buon numero di allievi abbiamo avuto qualche problema negli esordienti proprio perché negli anni passati negli anni del Covid e tutto ci sono state meno iscrizioni e quindi la categoria di esordienti che normalmente per noi è sempre stata anche importante quest'anno diciamo non avevamo un numero importante un alto numero di ragazzi gli obiettivi sono quelli di stare sempre almeno di avere 50-60 tesserati come dicevo prima non è che lo facciamo per il numero delle rette che ci viene perché non non pagano rette ma perché questo numero partendo da un numero di 20 giovanissimi ci consente di arrivare ai 16-17 anni con 7-8 ragazzi l'obiettivo è quello di riuscire quantomeno a mantenere questi risultati ad assicurare continuità a questo vostro successo sì quantomeno questo chiaro che ci piacerebbe arrivare anche un po' più in alto ma non so adesso non riusciamo manco a vederlo però questo insomma non l'abbiamo abbandonato l'abbiamo abbandonato e allora faremo il punto ci ripromettiamo di fare il punto assolutamente grazie allora al vicepresidente dell'Alma Juventus Sano Ciclismo Fabio Francolini e al suo presidente Graziano Vitali grazie come sempre anche a voi per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima Grazie a tutti